Il primo confronto pubblico tra i candidati alle primarie del centro-sinistra è stato privo di particolari scontri ideologici, al punto che per molti commentatori nei programmi proposti dai tre non vi sarebbe una grande diversità. Un'interpretazione rifiutata dal candidato Jacopo Molina, che sottolinea come le differenze esistano e come. Innanzitutto, ad esempio sulla questione grandi navi, io sono per portarle nella prima zona industriale di Porto Marghera, non mi risulta affatto se è così per gli altri candidati. Poi anche per quanto riguarda la squadra di giunta, dove io vedo un assessore che deve occuparsi di bilancio di società partecipate ed un altro che deve occuparsi di turismo, cultura ed eventi, non mi risulta che abbiano declinato in questo modo gli altri candidati. E poi c'è un tema sul quale io batto con grandissima forza, che è quello della sicurezza. Su questo punto, sottolinea Molina, quello che propongo è un piano chiaro e dettagliato. Da un lato quello di portare gli agenti di polizia locale fuori dagli uffici a presidare il territorio. E un altro aspetto che contraddistingue le mie proposte è quello delle istituzioni di due presidi interforze, uno presso la stazione di Mestre e uno presso il campo Santa Margherita a Venezia. Quindi è un rapporto molto più stretto, molto più intransigente e per andare veramente ad aggredire ogni forma di abusivismo, di soffollamento e di mancata sicurezza dei miei concittadini. I miei concittadini devono essere sicuri. Il tema della sicurezza, precisa il più giovane dei tre candidati, è stato colpevolmente sottovalutato da chi ha governato la città negli ultimi cinque anni. Quello è stato un grave errore e io rispondo per Jacopo Molina, rispondo per la mia candidatura a sindaco e quello che prometto ai miei concittadini è che se sarò sindaco, ogni iniziativa utile a far sì che i miei cittadini siano sicuri, la assumerò in ogni dove, nel rispetto delle competenze del sindaco e in raccordo con il prefetto e il questore. Grazie a tutti.